La raccolta firme è andata più che bene, abbiamo raccolto oltre 100.000 firme in tutto il Veneto, 3.000 solamente nell'area del Bassanese e questo sta a significare che la gente ha voglia di indipendenza, voglia di staccarsi da questo Stato centrale che ci sta togliendo quotidianamente sempre tantissime risorse. Buoni nonostante il maltempo i risultati della raccolta firme per l'indizione del referendum costruttivo per l'indipendenza del Veneto dal Governo centrale. 17, lo ricordiamo, i gazebo allestiti in tutto il Bassanese, una campagna che la Lega appoggia a pieno titolo, anche se, conferma il consigliere regionale Nicola Finco, l'iniziativa non ha colore politico. Noi abbiamo raccolto le firme in moduli senza simboli di partito perché è stata una raccolta aperta a tutti, a tutti coloro che vogliono bene al Veneto e che chiedono dignità e rispetto per questa terra. La gente è stanca e infatti lo abbiamo visto in questi giorni, è sempre più arrabbiata e ci chiede veramente di fare un passo importante verso l'indipendenza. E adesso quali sono i prossimi passi? Adesso il passo più importante è quello dell'approvazione del progetto di legge 342, in primis nella prima commissione e poi in ola consigliare, però viste le numerose firme penso che l'ITAR sarà velocissimo. Grazie. Grazie a tutti.